Scusi dottor, le pecore le ha viste? Come no, ha un pochino di antibiotico già da un paio di giorni finisce tutto, va bene tranquillo. E le galline? Le galline stanno bene, sto a posto? Sto a posto? Puoi andare tranquillo. Tranquillo? Tranquillo. No, i cavalli mi preoccupavo. No, i cavalli tranquilli, solo una limata agli zoccoli e abbiamo finito. Si, poi ci vediamo domani dopo domani per continuare il lavoro, va bene tranquillo. Dottor scusa, ma la scala che serve? La giraffa, c'è un mal di gole. E io ci avrei.